L'ultima rottura di una condotta idrica della Sasi ha costretto nella giornata di oggi 22 comuni a restare senza acqua fino alle prime ore dell'alba di domani, 25 marzo. L'interruzione è dovuta alla necessità di lavori di riparazione della condotta principale in località Piano Carlino di Casoli. Di conseguenza in diversi comuni i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole per ragioni igienico-sanitarie. L'approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso di ospedali e vigili del fuoco, il punto di prelievo in località marcianese a Lanciano al serbatoio denominato Passaggio a livello per mezzi muniti di motopompe. Questo è l'ultimo in ordine cronologico di interruzioni idriche che negli anni ha creato non poche difficoltà agli abitanti della regione. Problemi che sono stati fotografati anche nell'ultimo report in stat sull'acqua. In Abruzzo tre capoluoghi di provincia su quattro superano la media nazionale per quanto riguarda le perdite idriche. Con Chieti, Maglia Nera, l'Italia con il 71,7% dell'acqua immessa che si perde nella rete. Seguono poi Pescara, 58,9% e l'Aquila, 50,7%. L'unico comune abruzzese al di sotto della media nazionale dei comuni capoluogo e città metropolitane è Terramo con il 28,6%. Nei comuni di Chieti e Pescara le perdite hanno superato in 100 metri cubi al giorno. Nel capoluogo invece la dispersione va dai 25 ai 39 metri cubi al giorno per chilometro di rete. Mentre a Terramo il dato si ferma al di sotto dei 14 metri cubi. Sempre dai dati Istat emerge che nel 2021 il 30,8% delle famiglie abruzzesi non si fida a bere acqua dal rubinetto, mentre il 18% lamenta irregolarità nell'erogazione di acqua.